Buongiorno a tutti cari amici, volevo fare un breve video sull'Inter, ieri non ho avuto il tempo di farlo dopo la partita con Manchester, per impegni personali, lo faccio oggi, lo faccio oggi e che è fra l'altro il mio compleanno, speravo che ieri mi facessero un regalo, ma sapete che cos'è, ieri più che un regalo avrei dovuto sperare in un miracolo, perché è vero che nel calcio tutto può accadere, ma al 99% quando si sfida, si sfidano due squadre di cui una è palesemente forte e una è palesemente limitata, vince la squadra che è palesemente forte. Ora non parliamo di calcio estivo, non parliamo di preparazione, parliamo di deficienze, facendo seguito altri video che ho fatto recentemente, dico che quest'Inter è preoccupante, preoccupante perché noi non possiamo per l'ennesima estate consecutiva diventare la barzelletta estiva. L'Inter si appresta a diventare anche quest'anno la barzelletta dell'estate 2019. Come lo fu lo scorso anno con Modric, probabilmente lo servì ad essere quest'anno per l'Ukaku. È l'Ukaku sotto, è l'Ukaku sopra, c'è video in cui il Conte lo saluta e gli dà la pacca e allora forse significa che a sorriso stava in panchina un po' impronciato, forse può essere che, signori miei, può essere che non ci sono soldi o non si vogliono spendere soldi. E secondo me non si vogliono spendere soldi. Questi nostri proprietari della squadra, questi cinesi, secondo me hanno un po' di millanteria nel sangue. Perché è vero che l'Ukaku, per carità, 83, 84, 85 milioni, può sembrare troppo. Però di questi tempi è tutto relativo, non si capisce bene se è poco o se è molto o se è giusto. Anche perché, fino a poco tempo fa, fino all'anno scorso, noi ritenevamo giusto una clausola dicendo 10 milioni per i Cardi. Quindi non si sa perché se i Cardi, l'abbiamo valutato 110 milioni lo scorso anno, all'improvviso adesso un Lukaku 83 milioni non è giusto. Ma uno sforzo economico, lo si può ben fare. Alla luce anche del grande entusiasmo che abbiamo noi interisti, che spenderemo anche noi stessi. Se ci dicessero questi signori, Zang e company, ci dicessero, ogni tifoso deve mettere euro. Saremmo, secondo me, i primi a mettere mano alla tasca pur di fare questo acquisto. Questo acquisto che è profondamente necessario. Profondamente necessario. Indispensabile. Perché noi non solo Lukaku, ma ci vorrebbe almeno un'altra punta di peso, tipo Geco. Ma facciamo tutte ghiacchiere. Poi volevo rispondere, ho osservato molti youtuber, certamente, che vanno per la maggiore. Quindi, io, sapete, faccio video a video sportivi o di cronaca, ma più per diletto che per altro. Perché non vado a fare concorrenza a nessuno. Ho questo canale giusto per esprimere in libertà il mio pensiero. Ma ho ascoltato tanti youtuber, anche molto noti, che sposano la tesi dell'interismo a tutti i costi. Dicendo, ma che stanno dicendo? Sono fuori di testa gli interisti, ma come? Il 20 luglio, il 21 luglio, si grida al disfattismo, si grida alla dimissione di Conte, si critica la proprietà, si critica l'Inter. Vabbè, allora adesso abbiamo già i partiti, gli schieramenti, i pro-conte, i contro-conte, i pro-sunning, contro-sunning. Non è così, amici miei. Chi vi parla, che c'ha ovviamente decenni e decenni di militanza Inter, vi dice che obiettivamente siamo oggi la barzelletta d'Italia. Perché qua non si tratta di interstratisti su un nome. Perché ci sta, l'uquaco, tu non lo vuoi prendere, prendi i cavani, prendi altri nomi. Ma non perché siano nomi, perché siano giocatori di peso, giocatori forti, fortissimo, siano dei top player, che facciano fare a questa squadra il salto di qualità. Perché Sensi, Barella, compagnia bella, non fanno altro che delegare l'Inter a un posto di mediocrità. A un posto che in Italia può anche essere il terzo o quarto posto, non di più. Noi in Europa siamo al ventissimo posto nelle geratrie. E questa è la verità. Non si tratta di essere disfattisti o di criticati. Io mi sono veramente scocciato di questa situazione. Il vestice, bisogna fare un vestice, bisogna parlare. Il malato è malato, i medici fanno le riunioni, mentre i medici fanno le riunioni, il malato muore. Il malato muore. Alcuni dicono, ma c'è tempo, fino alla fine di agosto, ma cosa amici miei? Ma forse voi, qualcuno, qualcuno, non sa che l'8 agosto si giude il mercato inglese, ad esempio. E se si chiude l'8 agosto il mercato inglese, significa che se tu ti vai a prendere un lupaku, oggi essi in Manchester lo sostituiscono e c'hanno il tempo. Ma certamente non lo puoi andare a prendere il 5 agosto, il 6 agosto, il 4 agosto, quando poi non c'è più tempo per sostituirlo. Quindi, attenzione, non è che il mercato è lungo. E poi, come vi ho già detto, anche per altri mercati che si chiudono a fine agosto, ma quale squadra che ha praticamente iniziato il campionato a fine agosto si priva del proprio top player o del grande giocatore. Poi, dovremo prendere altri giocatori di seconde e terze scelte. Allora, se noi vogliamo fare una buona squadra di seconde scelte per fare il quarto posto, tentare di fare di nuovo il quarto posto in Italia, bene, io ci sto e mi può andare anche bene. Se però parliamo di Gappo con la Juve, Gappo con Napoli, fare l'avventura in Champions, cercare di arrivare, non so, ai quarti semifinale, allora siamo parlando di fantascienza, perché siamo miserevoli, siamo la barzelletta e ben fa conto, ben farebbe conto ad alzare la voce e amminacciare. Perché a noi necessita, oggi, abbiamo un ottimo postiere, un'ottima difesa, un centrocampo che ha necessità di un top player al centrocampo e un attacco che ha necessità di due top attaccanti. Altrimenti noi saremo una squadra mediocre. E non ci sto a dire che siamo pessimisti, noi che parliamo così, che siamo disfattisti. Siamo realisti. Non si può dire Antonio Conte, Antonio Conte, Inter, Inter a tutti i costi e basta, chiudendo gli occhi perché poi Conte farà il miracolo. L'abbiamo visto ieri. L'abbiamo visto ieri. Quando noi ci andiamo a confrontare con squadre di un certo livello, possiamo soltanto metterci in difesa e per 80-75-80 minuti stare nella nostra metà campo difendendoci affannosamente e cercando di non subire gol. Come è stato ieri, che per tre quarti dell'incontro siamo stati nella nostra metà campo e il Manchester attaccava, ha sfiorato ripetutamente il gol, finché l'ha fatto. Ma se non l'avesse fatto, noi ci saremmo vantati di aver strappato uno 0-0 facendo una sorta di, diciamo, di quasi di catenacce e tentando, se no, due o tre sortite in attacco. Quindi noi abbiamo avuto due occasioni, diciamo, e il Manchester ne ha avuto 15. E beh, magari avremmo strappato lo 0-0, tanti applausi. No, noi dobbiamo imporre il gioco, ma stiamo scherzando. Noi siamo l'Inter. Allora, vedete, volete chiudere gli occhi perché uno non si può contraddire. Allora, se dice viva Conte, viva Inter, viva Suning, lo deve dire a qualunque costo. Quindi non si può criticare, non si può dire niente. Invece io critico perché ti tolerò questo video. Inter, 21 luglio, la barzelletta d'Italia. Mi sono scocciato, siamo la barzelletta d'Italia. Lupaku costa, costa nemmeno tanto. Perché se voi valutate Persic 50 milioni, valutate Riccardi 110 con la clausola, allora gli 83 milioni di Lupaku, giocatore giovane, e che ha vinto, non sono affatti tanti. Non sono tanti. È inutile che andiamo lì a fare il figuraccio. Dice, sì, va bene, noi ci arriviamo a 80 milioni, ma vogliamo dare 10 milioni adesso. 15 milioni l'anno prossimo. Andate i 30 milioni fra tre anni. Poi il bonus fra quattro anni. Dice, uscite fuori, ausilio fuori, accompagnate questo signore alla porta, questo varabondo che è venuto qua. Dobbiamo fare le figuracce, quelle. Bisogna sganciare i soldi. Cash, money. Tanto con le pubblicità, con il ritorno di immagine, con i diritti di immagine, con tutto. L'Inca li riprenderebbe, sapete come? In pochi mesi questi soldi. Io non so cosa sta succedendo. Mi auguro che io venga smentito in questi giorni con questi acquisti. Ripeto, un top a centro campo, due top in attacca, altrimenti restiamo mediocre. Ciao a tutti, buona giornata e auguri a me. Buon compleanno.